Ciao a tutti, 5 modi per renderlo bisognoso. In questo video voglio spiegarti 5 modi per renderlo bisognoso. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni, seminari dal vivo. E veniamo, veniamo al tema, 5 modi per renderlo bisognoso. Allora, intanto bene, ti ricordo ancora che abbonarsi è facile, basta andare nella home page, appunto, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Vediamo quali sono questi 5 modi per rendersi, rendere un uomo bisognoso. Allora, il primo modo è quello, la prima cosa che devi fare è farlo sentire come se avessi un po' di risentimento con questa persona, quasi da farlo sentire in colpa. Il prerequisito però per questo è che devi avere già un po' di potenziale, perché se non hai, se hai zero potenziale devi aspettare a farlo, perché non funziona, perché non va bene, perché comunque se non hai già un po' di potenziale è difficile, non puoi riuscire a farlo sentire in colpo. Invece se hai un po' di potenziale lo fai sentire come se fosse un po' arrabbiato, come se avesse fatto qualcosa che non va. Utilizzi un po' di silenzio, un po' di silenzio stampa, insomma, cioè nel senso che interagisci con lui, ma in modo molto freddo e molto distaccato. Ripeto, come se avesse qualcosa. Il fatto di fargli provare un senso di colpa, ovviamente se si aggancia sarà un nutrimento forte emotivo. Il secondo modo è quello di quando non ci sei, quando non sei presente, non cercarlo mai. Cioè vi vedete due volte a settimana? Boh, vedete due volte a settimana se lui ti impone quello e per il resto del tempo tu non lo cerchi mai e gli rispondi con difficoltà. come se non avessi voglia di rispondergli e come se fossi un po' scocciata di rispondergli e in questo modo lo lasci, diciamo, nel suo brodo. Ecco, questo tende a renderlo dipendente perché gli viene il dubbio cosa farà, cosa non farà, come mai non mi cerca, perché qua, perché là. Insomma, sono tutte cose che la renderanno abbastanza bloccata in questo modo. Ecco, questo è un qualcosa che funziona abbastanza, diciamo. Quando gli piaci, o comunque, questo è un modo che fa sì che incrementerai il tuo desiderio per te, incrementerai il bisogno, sentirai il bisogno di vederti più spesso. Perché se molte persone cosa fanno? Si vedono raramente, no? Però la donna nel frattempo crea tutta una serie di contatti, di cose, videochiamate, affari. Questo è sbagliatissimo perché non lasci generare il bisogno, non lasci neanche il tempo di generare un bisogno. Ecco, questo è molto sbagliato. Quindi invece agire in questo modo ti dà sicuramente dei vantaggi. Ti dà dei vantaggi e quindi cerca di usarli, insomma, questi criteri. La terza cosa da fare è creare un po' delle insinuazioni. Insinuazioni, ad esempio, sulla sua virilità, sul fatto che ti possa soddisfare, lanciare delle sfide, sul fatto che magari ci potrebbero essere altri uomini, ecco, creargli dei dubbi. Andare a creare dei grossi dubbi è quello che fa sì che tenderà a coinvolgersi sempre di più. Sembra strano, ma il maschio, quando vive questi dubbi, quando vive queste incertezze, quando vive queste insicurezze, tende comunque di fatto a coinvolgersi. Il quarto modo è, diciamo, interrompere degli schemi. Cioè, crea delle abitudini e poi interrompere. Questo è l'interruzione di schema. È fondamentale perché ha dei picchi emotivi molto alti. Come sappiamo, i picchi emotivi generano delle compulsioni emotive. questo è molto importante. Quindi, crea comunque delle, diciamo, crea comunque dei picchi, crea delle, insomma, come possiamo dire, delle interruzioni di schema. È fondamentale. E il quinto modo, ovviamente, è quello di utilizzare la preselezione. Se lui vede che ci sono tanti uomini che sono interessati a te, automaticamente il tuo valore aumenta. Perché tutto quello che viene desiderato dagli altri automaticamente inizia a prendere valore, inizia ad acquisire forza e potenza, diciamo, è per cui si sentirà anche più coinvolto da te. Ecco, questi sono cinque modi che funzionano per renderlo bisognoso, diciamo. Alcune di queste tecniche in realtà sono state mediate proprio da quello che fanno i narcisisti, diciamo. Per cui vanno usate nel modo giusto, ovviamente, e la differenza è ovviamente l'intento. vanno usate per coinvolgere, insomma, in modo positivo. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividerlo con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella se non l'hai ancora attivata, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo 4 livelli di abbonamento, l'abbonamento live per partecipare alle live, l'abbonamento base con lezioni mirate, l'abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, e infine l'abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Inoltre ti ricordo che se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, anche Crescita Personale con Massimo Terramasco, Felicità, Benessere, Amore e Autostima, potrai entrare a far parte della più grande community italiana per quanto riguarda la seduzione e la crescita personale e partecipare ai gruppi dove conosci persone nuove. Ciao a tutti!